L'incontro dei due discepoli di Emmaus con Gesù è il primo esempio della terapia della speranza attuata da Cristo, che nella strada si fa vicino a due uomini delusi e sconfitti e dona a loro speranza. Lo ha sottolineato Papa Francesco nella Catechesi dell'Udienza Generale, dedicata sempre alla speranza cristiana. Quello di Emmaus è il cammino della speranza perché i due pellegrini all'inizio coltivavano una speranza solamente umana, che ora andava in frantumi. Per loro quella croce issata sul Calvario era il segno più eloquente di una sconfitta che non avevano pronosticato. Poi l'incontro con Gesù, uno dei tanti incroci che capitano nella vita, che anzitutto domanda e ascolta. Noi speravamo, ma, dicono i due, emblema dei fallimenti che ci sono nella vita di ogni persona. Gesù camminando con loro riesce a ridare speranza. Parla attraverso le scritture che testimoniano come la vera speranza non è mai a poco prezzo, passa sempre attraverso delle sconfitte. E poi spezza il pane dell'Eucaristia, spezza la nostra vita perché non c'è amore senza sacrificio e la offre a tutti. È un incontro rapido quello di Gesù con questi due discepoli sulla strada di Emmaus. Però in esso c'è tutto il destino della Chiesa. Ci racconta che la comunità cristiana non sta richiusa in una cittadella fortificata, ma cammina nel suo ambiente più vitale, va a dire la strada. E lì incontra le persone con le loro speranze, le loro delusioni, a volte pesanti. La Chiesa ascolta le storie di tutti, come emergono dallo scrigno della coscienza personale, per poi offrire la parola di vita, la testimonianza dell'amore, amore fedele fino alla fine. E allora il cuore delle persone torna ad ardere di speranza. Dio camminerà con noi sempre, sempre, anche nei momenti più dolorosi, anche nei momenti più brutti, anche nei momenti della sconfitta. Lì è il Signore. E questa è la nostra speranza. Andiamo avanti con questa speranza, perché Lui è accanto a noi, camminando con noi, sempre.